Abbiamo fatto tardissimo, buongiorno Emma, buongiorno, sei pronta? Sì. Oggi dobbiamo fare la festa della mamma. Allora, eccoci qua, stiamo entrando a scuola a fare l'Olimpiade. Sei pronta? Sì. Allora dobbiamo gareggiare, dobbiamo vincere? Sì, sì. Allora andiamo. La maestra ha fatto della coppa per noi e poi ce la dobbiamo portare a casa. Che bello, andiamo. Allora, eccomi qua, sono a casa. Allora, Emma, di la verità, com'è andata stamattina? Vieni. Bene. Sì, siamo divertite, è stato molto bello. Abbiamo fatto appunto i giochi, non so se arriveranno dei video, comunque non penso che vi possa legare quasi nulla, a meno che non ci hanno fatto un video proprio a noi due, però vi metto qualche foto perché c'erano troppi bimbi e quindi sapete che cerco sempre di non far vedere i bambini sul canale. Aspettate che sto accennando il computer. Comunque siamo divertite, è stato bello. Poi dopo vi faccio dire cosa ci hanno regalato. Non ti piace? Lascialo qua. Mi piace, sono un po' di marmella. Lei è ancora con la maglietta. Comunque è stato bello, ci hanno regalato una... Mamma, fanno vedere. Girati. Daniela. Girati. Emma. Anche io avevo la maglietta, abbiamo fatto le foto. È dietro la maglietta. È dietro la maglietta di mamma. L'ho fatto un grosso cuore. Cuore, anche io te l'ho fatto il cuore. Allora, io adesso, niente, sto assaggiando la marmellata che ha mandato mamma. Emma, non ti sporcare la maglietta, te la devi togliere. Buona. Non ho sbagliato. È una composta di frutti di bosco. Buonissima. Buona, buona. Bene. Ciao. Ci aggiorniamo dopo che andiamo a vedere la sala. Per me? Per il compleanno di Emma. Allora, eccoci qua. Stiamo scendendo. Stiamo scendendo. Andiamo a vedere se vecchiamo una sala. Così la prenotiamo e via. Ci togliamo questo pensiero. Mamma, fammi salutare. Oh, sì, sì. A dopo. Ciao. A dopo. Allora, piccola pausa per la merenda. Emma, come sono? Buoni? Buongiorno, siamo al giorno dopo. Ieri in realtà ho registrato pochissimo. Ho fatto la live che poi ho cancellato, poi la devo rifare perché quando sto con i bambini si capisce niente. Quindi la voglio rifare bene. Dove parlavo della chat, delle varie problematiche e le varie cose belle. Comunque vi volevo far vedere ieri poi, alla festa della mamma, ci hanno dato questo. Ci hanno premiato i bambini con questo. Vedete quanto è bello. Alla mamma numero uno. E niente, questo è tutto, raga. Oggi siamo a casa perché da ieri si era brando la febbre. Quindi non sta bene. Infatti adesso sta dormendo. E mi dice, ma sta già sveglia, sta colorando. Stitch. Quello che ti ha mandato la nonna, vero? No, Angel. Ah, Angel. E quindi niente, da ieri sta quella febbre purtroppo. E quindi siamo a casa. Oggi è una bella giornata. Però tra un po' scendo, che con Emma andiamo a fare alcune commissioni, stiamo aspettando che apriano i negozi. Quindi adesso doccia, ci vestiamo. E vediamo il da farsi. E niente. Meno male che ieri abbiamo passato quella bella giornata e siamo riusciti a farla. È vero, amore? Tutti quei giochini, quelle cose carine. Io vi saluto, chiudo quel video e ovviamente vi aspetto domani, sempre con un nuovo video. E se riesco a fare qualche live, ben venga, almeno chiacchieriamo un po' e siamo un po' insieme. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!